ciao a tutti oggi prepareremo le girelle alle mele il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono pasta sfoglia rettangolare mele tagliata a pezzetti zucchero di canna limone cannella uovo per spennellare zucchero a velo per decorare diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la secca di cannella e li facciamo polverizzare per 20 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le mele il succo di limone ed azionare il bimbi per quattro secondi a velocità 5 il composto è pronto metterlo sulla vasta sfoglia livellare su tutta la superficie arrotolare dal lato lungo formando il cilindro chiudere bene e riporre in congelatore per 30 minuti trascorso il tempo abbiamo ripreso il rotolo adesso lo taglieremo a rondelle di due centimetri circa li posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno spennellare la superficie dei laterali con l'uovo sbattuto cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15 20 minuti circa le girelle sono cotte lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dalla teglia spolverizzare con zucchero a velo e servire girelli alle mele grazie e alla prossima ricetta spolverizzare con zucchero a velo e servire spolverizzare con bosок spolverizzare con Mattane spolverizzare con carte spolverizzare conatti spolverizzare conρε Symphony spolverizzarements